Filippo Lanciani, qui al palazzetto di Sarocco Castagnaretta in vista della partita di domenica alle ore 18 contro Cantù. Filippo, io ti chiedo come prima cosa un'analisi e anche un punto dopo la partita contro Motta di Livenza. Cercavate la prima vittoria in trasferta, non è arrivata, è arrivata una sconfitta al tiebreak. Come è andata questa partita, come analizzi e come analizzi anche questo periodo che è un periodo un po' complicato, una serie negativa? Sì, stiamo attraversando un periodo un po' complicato, è vero, però guardando un lato positivo abbiamo fatto il nostro primo punto in trasferta, quindi dobbiamo continuare a allenarci duramente in settimana per poi trovarci pronti a domenica e affrontare ogni partita come una battaglia perché da ora in poi è vietato sbagliare, diciamo. A Motta cosa è mancato? Ci sono stati un po' di passaggio a vuoto, una prestazione discontinua, al di là appunto di questo tabù trasferta che prosegue, secondo te cosa vi è mancato? Ma secondo me non ci abbiamo creduto abbastanza, diciamo, perché ogni set l'abbiamo combattuto e poi siamo arrivati al tiebreak che stavamo sopra e bastava veramente poco per portare a casa la vittoria. Però ci servirà la lezione per le prossime partite per tenere sempre l'attenzione al massimo e cercare di non sbagliarle più. Domenica si torna qui a Sarocco Castagneretta, bisogna interrompere questa serie negativa in campionato di tre sconfitte. Che partite ti aspetti contro Cantù e che versario è Cantù? Cantù è una squadra molto forte che è arrivata pure in semifinale di Coppa Italia e ha recuperato tutti i suoi giocatori. Quindi, come ho già detto prima, sarà una battaglia perché questo campionato si è rivelato più duro del previsto. Quindi, niente, scenderemo in campo con la rabbia giusta per approcciare la partita.